Buongiorno da Luciano e da Cristian, questa mattina siamo a Città Sant'Angelo e precisamente in via Maestri Angolani, siamo alle spalle di Mondo Convenienza da quella parte per andare a vedere un appartamento posto su tre livelli in questo fabbricato, con questo ingresso comune che Cristian inquadra, faccio una breve sintesi, tre livelli, al piano seminterrato una ampia taverna con un servizio e un ripostiglio, mentre al primo piano, il quale si accede da quel portoncino lì, c'è un grande, un ampio soggiorno con angolo cottura, anche qui un ripostiglio e un servizio e poi sopra tre camere matrimoniali e anche qui un ripostiglio e un servizio, la casa è dotata anche di impianto fotovoltaico e in perfette condizioni anche sotto il profilo degli impianti, quindi se siete interessati a questa tipologia guardate le immagini che adesso seguono, altrimenti vi spostate e passate al prossimo video. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!